Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ripercorriamo la storia di Giuseppe Morgante, che considero triste e ingiusta. Il suo caso ci conferma di nuovo che non soltanto le donne possono essere vittime di un calvario fatto di persecuzioni e aggressioni violente. La violenza non ha genere. Siamo a Legnano, un comune situato nell'Alto Milanese, attraversato dal fiume Olona, in Lombardia. Giuseppe Morgante lavora in un supermercato e a novembre del 2019 conosce Sara tramite un'app di incontri. Dopo giorni di conversazione, i due decidono di conoscersi di persona. Tra loro scatta subito una chimica particolare che li trascina da una chiacchierata di una notte a una vera e propria frequentazione. La coppia sembra felice. Sara, agli occhi di Giuseppe, ha tutta l'aria di essere una ragazza dolce. Lo riempie di regali e, dopo poco più di un mese di frequentazione, gli rivela di provare qualcosa per lui che va al di là di una semplice amicizia. Ma il tempo passa e la spensiratezza dei primi giorni si disperde. Sara è cambiata, è diventata apprensiva fino a rendersi soffocante. Pretende di vedere Giuseppe ogni singolo giorno e non accetta rifiuti. La situazione precipita e, dopo diversi mesi, Sara incarna ormai l'ombra di Giuseppe. Lo segue costantemente, 24 ore su 24, nemmeno sul posto di lavoro gli risparmia la sua pressante attenzione, che sembra proprio essersi trasformata in uno stalking ossessivo. I sorrisi delle prime uscite sono soltanto un lontano ricordo e la fiducia non mette radici nell'animo irrequieto di Sara. Lei si carica di aspettative, corre fin troppo, ma per Giuseppe la loro è una semplice conoscenza iniziata casualmente su internet. Lui non si spiega come abbia potuto tramutarsi in una sorta d'ossessione. Per queste ragioni il ragazzo decide di troncare la relazione, ma dice a Sara che, se lei lo desidera, possono rimanere in buoni rapporti. All'inizio Sara pare pure a consentire, non fa scenate e sembra che tutto si sia concluso nel migliore dei modi. Giuseppe le ha offerto la sua amicizia e Sara l'ha accettata. Una mossa rispettosa, a tratti dolce, quella di Giuseppe, il quale non sa che la sua vita sta per ricambiare per sempre. Per Sara ogni scusa è buona pur di vedere Giuseppe. Il ragazzo si rende conto che la vede almeno quattro volte a settimana, perché lei passa sotto casa sua e gli chiede di raggiungerla per fumare una sigaretta e fare quattro chiacchiere. Così però non va. Giuseppe comincia a dire di no a Sara, lo fa qualche volta, non sempre, e riesce a tranquillizzarla ancora per qualche settimana. In seguito Giuseppe riprende a uscire con gli amici. Sempre più spesso dice a Sara che non è il caso di vedersi, anche perché lei continua a porsi in maniera troppo insistente. È a questo punto che la ragazza mette in atto delle vere e proprie persecuzioni. Tutti i giorni Sara chiama Giuseppe ossessivamente, si contano fino a 800 telefonate in una sola giornata. Nemmeno l'operazione di bloccare il suo numero di cellulare cambia la situazione. Sara riesce a ovviare al blocco contattando Giuseppe tramite l'anonimo o profili social fasulli. Lo riempie di insulti, lo minaccia, gli scrive messaggi sgradevoli. La situazione non si è affatto normalizzata, dunque. Una sera Giuseppe riceve 8 messaggi contenente minacce di morte e insulti inviati da un profilo falso. Un'altra sera, alle 22.15, Giuseppe riceve un ennesimo messaggio dallo stesso profilo con su scritto Pezzente. La mattina successiva, alle 11.04, arriva un altro messaggio con scritto Uomo di merda, devi morire. Un'ora dopo riceve un messaggio con scritto ancora Uomo di merda e poi Animale I profili fasulli creati da Sara hanno tutti necnei minacciosi e inquietanti come Peppe morto 91, Peppe morto 79 e Peppe morto 35. Tutti questi account falsi rivolgono a Giuseppe lo stesso brutale augurio Uomo avvisato, sei morto e ancora, devi rimanerci viscito, non sei ancora morto? Peccato. Giuseppe di certo sa chi si nasconde dietro queste minacce, proprio lei, Sara. Nonostante l'inquietudine, però, è convinto che le parole di Sara siano dettate dalla rabbia. Sono insulti pesanti che mirano a spaventarlo, ma nulla più. Proprio per questo procede con la sua vita senza denunciare e inizia a frequentare un'altra ragazza. Da questo suo comportamento ho capito chiaramente che Giuseppe non aveva idea di quello a cui sarebbe andato incontro. Certo, non siamo soliti aspettarci il peggio da chi conosciamo, ma Sara aveva già ampiamente mostrato segnali preoccupanti. Le 800 chiamate al giorno, i profili fake creati su Facebook e le minacce di morte. Giuseppe però pensa che il suo sia uno sbandamento passeggero, che Sara presto troverà un altro uomo su cui riversare le sue attenzioni piuttosto ossessive. Situazioni come questa fanno riflettere, ci ricordano l'importanza di insegnare cos'è la violenza di genere e fin da quando i bambini sono piccoli. La scuola dovrebbe indubbiamente farsi carico di questo compito, a mio avviso. Spesso nel passato in famiglia questi argomenti non venivano toccati, magari in questo periodo storico sì, perché oggi rappresentano un tema caldo. Però quando io ero adolescente veniva affrontato pure superficialmente soltanto il tema della violenza domestica, non quello della violenza di genere, che era meno attuale di adesso. Mentre le battute di pessimo gusto riguardanti l'azione di picchiare le donne sono ben radicate nel mio cervello, non ricordo alcuna discussione in cui si poteva anche solo ipotizzare che un uomo fosse vittima di violenza psicologica o fisica da parte di una donna. Ma torniamo alla storia di Giuseppe. L'informazione della presenza di una nuova ragazza nella sua vita risulta indigesta Sara che la contatta per raccontarle di essere incinta, proprio di quest'ultimo. Nonostante quella della gravidanza sia una fesseria, le due si appostano sotto casa di Giuseppe con fare minaccioso. Però tutto si risolve nel migliore dei modi. Quindi Sara mette sotto pressione anche la ragazza di Giuseppe e continua a scriverle, menzionando la gravidanza, a provocarla e angustiarla con messaggi come ho una figlia in arrivo, la aspetto da Giuseppe, è sua. Sara non smette mai di scagliare insulti tramite i profili fasulli. Scrive a Giuseppe indirizzando minacce anche alla ragazza che frequenta. Domani vado a trovare la tua amica, sappiamo anche dove vive e lavora. O ancora, sono vicina dove vive, non manca molto. Giuseppe non può più negare a se stesso di essere pedinato e perseguitato da Sara, la quale si spinge ad aspettarlo sotto casa sua per ore e ore. Inoltre, ora Giuseppe non ha timore solo per se stesso, ma anche per le persone che gli stanno intorno e a cui vuole bene. Questo pensiero lo tormenta. Immagina che tra un po' Sara possa arrivare a minacciare anche i suoi amici e i suoi familiari. E questo è un problema che è necessario affrontare e risolvere. Giuseppe se ne rende conto, ma ripeto, anche rischiando di risultarvi pesante, lui non avrebbe mai immaginato l'epilogo di questa vicenda. Allo scopo di mostrare alla gente le persecuzioni messe in atto da Sara, Giuseppe filma l'auto di quest'ultima, mentre passa sotto casa sua a intervalli regolari di circa 4 minuti. Durante la sera delle riprese video, Sara buca per la prima volta le gomme dell'auto di Giuseppe. È l'inizio di una lunga serie di episodi simili. Il povero ragazzo arriverà a sostituire 11 pneumatici in soli 4 mesi. È proprio durante uno di questi assalti che accade qualcosa. Sara viene colta sul fatto mentre taglia le gomme della macchina del ragazzo. A vederla all'opera sono lo zio e il fratello di Giuseppe. Quest'ultimo somiglia particolarmente al fratello, infatti Sara lo scambia per il suo ex. Estrae un coltello e lo minaccia urlandogli contro, mi hai rovinato la vita. Dopo un fatto del genere, Giuseppe si rende conto che l'unica alternativa è denunciare Sara. La situazione sta diventando pesante oltre ogni limite. Si reca dai carabinieri per fare la denuncia, ma loro, di primo acchito, neanche si prendono la briga di stilarla. Gli suggeriscono di disiscriversi dei social network e di cambiare il numero di telefono, tanto non sarebbe successo nulla. Successivamente, a seguito di altri avvenimenti allarmanti, Giuseppe torna in questura e i carabinieri accolgono la sua denuncia. Nella sua deposizione del 16 aprile 2019 si legge Vivo con l'ansia che Sara possa crearmi seri danni. Inoltre, temo che Sara possa fare del male alle persone che mi stanno accanto e che mi vogliono bene. Gli inquirenti gli chiedono anche se abbia dovuto cambiare le sue abitudini a causa di lei. Giuseppe risponde che la sua quotidianità è cambiata eccome, eppure drasticamente. Infatti, da persona che gradiva uscire di casa, si era lentamente trasformato in un solitario capace di sentirsi assicura al 100% solo tra le mura domestiche. Ma soprattutto aveva paura per le persone che gli stavano attorno. Sara non doveva inquadrare i suoi amici e le rispettive abitudini, così non avrebbe potuto raggiungerli. Lei sapeva sempre dove si trovava Giuseppe. Terminato il turno di lavoro, lui se la ritrovava davanti anche quando gli cambiavano l'orario all'ultimo minuto. Come spesso accade, la denuncia nei confronti di Sara non porta benefici, così Giuseppe decide di affrontare la situazione di petto e l'avvicina per parlarle, premurandosi di registrare la loro conversazione di nascosto. Riassumo il contenuto finito agli atti. Giuseppe comincia dicendo di averla vista sotto casa sua mentre lei lo seguiva. Sara però trova una scusa, infatti risponde che doveva passare di lì per andare a Busto Arsizio. Giuseppe le chiede perché, visto che era diretta a Busto Arsizio, sia tornata indietro più e più volte. Ma Sara ribatte solamente. Sono tornata indietro perché sapevo che eri te, ti ho riconosciuto. Giuseppe le domanda. Per che cosa? Per vedermi? Sono passati sei mesi Sara, sei mesi. Io sono stanco. Sara ribatte, io ti ho fatto il mondo e qui intende di tutto. Lo so, non lo nego. Giuseppe chiede, ma perché l'hai fatto? Sara dice, perché volevo che passassi un quarto del male che avevo io dentro. Giuseppe insiste, quando ti sei creata i profili falsi perché mi hai scritto messaggi come ti ammazzo? Che senso aveva? Sara ribatte dicendo, perché ti ripeto, Giuseppe tagliacorto, chiedendo solamente se lei volesse spaventarlo. Sara risponde, anche, io ti dico solo una cosa Peppe, ho sbagliato. Giuseppe continua, le gomme bucate, perché a me? Sara continua a dire, volevo semplicemente darti un po' del male che provavo io in quel momento. È un concetto che Sara ripete spesso nella conversazione. Giuseppe riporta a Sara l'episodio in cui lei ha fatto una figura da cioccolataia, facendosi pure scoprire dai suoi familiari, mentre gli tagliava le gomme dell'auto. Sara ammette, persino con candore, di aver assoldato un ragazzo per farlo seguire e dopo questa rivelazione la conversazione degenera, diventando grottesca e spaventosa, a mio avviso. Sara spiega che il ragazzo assoldato viene dai bassi fondi, mica dai grattacieli e quando Giuseppe le domanda come mai questo tipo non sia mai andato a parlargli, a muso duro, Sara pronuncia parole attiaccianti, ossia, lui è passato diverse volte da te, ti ha anche visto, ti è passato di fianco. Giuseppe riesce solo a ribattere, a me sembra un incubo. Ho persino paura di uscire, voglio capire cos'è che vuoi da me. La ragazza ammette di non avere una risposta, ma solamente paura di perderlo. Sara, dopo quell'incontro, promette a Giuseppe che lo lascerà in pace, non creerà altri profili, non lo minaccerà più. Ciò nonostante, la mattina dopo Giuseppe si ritrova nuovamente tre gomme della sua automobile bucate. Cerca di andare oltre, ma dopo una manciata di giorni l'affronto si replica. Giuseppe però non si dimostra timoroso, certo ogni volta che esce si guarda intorno con sospetto, non abbassa la guardia, ma non ha paura di Sara, è questa la verità. Quanto alla vita privata di Sara, lei ha una bimba di otto anni. Sostiene di averla cresciuta da sola, che il padre si è tolto la vita in via Palmanova a Milano, aveva dei forti problemi con l'alcol ed era depresso. Sara continua a sostenere di essere incinta di Giuseppe ormai da ben sette mesi, ma il ventre non si è mai ingrossato. Si tratta soltanto di una bugia per tenere Giuseppe legato a sé. Intanto lui prova ad andare a parlare anche con i genitori di Sara, senza alcun risultato. Allora il fratello di Giuseppe contatta il programma televisivo Le Iene e spiega la situazione. L'inviata e i cameraman della trasmissione vanno a Legnano per intervistare Giuseppe, per sentire la sua storia. Poi vanno anche da Sara. L'inviata riesce a parlarle e vi giuro che col senno di poi vedere quella puntata mette i brividi. Arriviamo al giorno più tragico, è martedì 7 maggio 2019. Giuseppe esce dal posto di lavoro intorno alle 20 e 30 e si rende immediatamente conto di essere seguito in auto dalla sua ex. Intorno alle 21 e 30 circa la madre lo chiama preoccupata non vedendolo arrivare. Giuseppe le spiega che Sara lo sta pedinando. Decide a questo punto comunque di andare verso casa. Il fratello lo aspetterà davanti al portone per sicurezza. Quando Giuseppe parcheggia e scende dall'auto, Sara dietro di lui lo invita dal finestrino ad avvicinarsi. Dice che gli vuole chiedere scusa. Giuseppe imescele di fidarsi delle sue parole, ma in una frazione di secondo Sara gli scaglia in faccia e sul petto un bicchiere contenente un liquido scuro e denso. Un acido. Il feroce attacco avviene davanti agli occhi esterrefatti del fratello di Giuseppe. Sara mette in moto l'auto e scappa veloce mentre i familiari di Giuseppe escono dal palazzo per soccorrerlo. La giacchetta del ragazzo si sta sciogliendo a causa della reazione chimica. Giuseppe viene immediatamente portato all'ospedale di Legnano. Codice rosso. È in rianimazione. I suoi cari sono lì all'ospedale in attesa di sapere qualcosa. Dicono in coro, non è possibile, non è giusto. Dopo tutte quelle denunce, dopo tutte le minacce, dopo quello che ha combinato, doveva succedere questo. Giuseppe si è sempre dimostrato forte, soprattutto in presenza della sua mamma. Era lui a rassicurare lei e a dirle di stare tranquilla mentre subiva mesi di persecuzione. Ma a tragedia compiuta nella camera d'ospedale, il ragazzo non può far altro che dire, mi brucia, mi brucia tanto. Posso solo immaginare che dolore atroce abbiano provato Giuseppe e tutte le vittime che hanno subito un attacco con l'acido. Poco dopo l'assalto, un familiare di Giuseppe riceve un messaggio proprio da Sara, che allega la foto della caserma dei carabinieri. Scrive Io sono qui, così mi faccio tenere. Sara intende costituirsi, così il fratello di Giuseppe si precipita in caserma. Davanti all'edificio c'è parcheggiata la macchina di Sara. La carrozzeria è macchiata da un liquido scuro, sembra catrame, ma ancora non si sa che tipo di acido sia. Il giorno successivo Giuseppe viene trasferito al niguarda di Milano nel reparto grandi ustionati. In sala d'attesa c'è sua sorella che apprensiva riferisce a chi le interroga che l'adegenza di Giuseppe in quella struttura dovrà durare circa un mese. Mentre i familiari si accalcano preoccupati, Giuseppe rinviene e si dimostra una forza della natura. Chiede una sigaretta, sostiene che non sono quelle le cose che possono buttarlo giù. Dopo diverso tempo il ragazzo può ricevere visite. Racconta a chi lo intervista che sapeva sarebbe successo, se lo sentiva dentro. Ha il volto completamente nero, dal naso in giù, la bocca gonfia e una benda sull'occhio che è stato sommerso dall'acido. Dalla parte sinistra del viso riporta i segni delle ustioni e il petto, che è la zona più danneggiata, è coperto da creme e bende. Sara, come già detto, si è costituita e viene arrestata con le accuse di lesioni personali gravissime e atti persecutori. Venerdì 11 maggio 2019 viene sottoposta all'interrogatorio di garanzia. Al netto della premeditazione, dell'aggressione, dell'organizzazione nella sua tattica di persecuzione, l'avvocato della donna, Pierpaolo Proverbio e il collega Sandro Cannarile, sembrano intenzionati a chiedere una perizia psichiatrica. Intanto la donna resta in carcere e lo decide il GIP del tribunale di Busto Arsizzo il 14 maggio 2019. I genitori di Sara esprimono i loro pensieri in un'intervista al Corriere della Sera, che ora riporto anche a voi. Ha fatto male a un'altra persona, l'ha fatto da madre e in ogni suo comportamento una madre deve pensare non a se stessa ma ai figli, deve pensare a quali saranno le conseguenze. Che paghi fino all'ultimo giorno la sua colpa, fino all'ultimo minuto. Non abbiamo chiesto sconti e non lo faremo, capito? Non abbiamo invocato i domiciliari e non l'abbiamo mai nemmeno ipotizzato. Intesi? Gli zii sottolineano anche un altro fatto grave, ossia dicono che Sara odia gli uomini e si è sempre ostinata a tormentarli. Dopo un'esistenza dedicata al lavoro, improntata al rispetto delle regole e vissuta nell'anonimato, i parenti di Sara sono travolti dal dolore e dalla vergogna di essere additati dalla comunità come una famiglia di mostri. Li pervade la sofferenza e l'angoscia per i gravi danni arrecati a Giuseppe Morgante, del quale chiedono con insistenza notizie sulle condizioni fisiche, però aggiungono non osiamo disturbare la sua famiglia. Infine si danno un'autoimposizione, ovvero quella di non cercare giustificazioni. Anche se, riferisce uno zio, non tutto è stato correttamente raccontato riguardo alla vita di Sara, infatti è falso che sia vedova e disoccupata. Aveva un regolare contratto a tempo indeterminato con un'impresa di pulizie e il padre della bambina si era semplicemente allontanato, non si era suicidato. Sara aveva acquistato l'acido il pomeriggio dello stesso giorno in cui ha agito. Pianificandolo a guato, Giuseppe subirà ancora delicate operazioni al volto sfregiato e all'occhio sinistro devastato, senza dimenticare l'enorme danno morale provocato dal reiterato stalking messo in atto da Sara, verbalizzato dai carabinieri di Legnano nella denuncia della vittima che risale al 19 aprile. La denuncia, Sara forzata da un'integrazione, era stata trasmessa alla procura di Busto Rassizio, ben 20 giorni prima dell'aggressione. Un ampio margine, dice uno zio di Sara. Si parla della necessità di denunciare, i magistrati e le forze dell'ordine invitano a denunciare, denunciate chi vi minaccia, denunciate e sarete protetti. Quel povero ragazzo ha denunciato e Sara non è stata fermata, anche se forse spettava a noi per primi farlo. Sara è una donna che guadagna a 10 e spende 100, girava con tre cellulari. Non capivamo cosa diavolo ci facesse con quei dannati telefonini. Sara intanto chiede il patteggiamento a 5 anni di reclusione che il gruppo del tribunale di Busto Rassizio respinge, sostenendo che la pena non è congrua. L'udienza preliminare per il processo viene fissata il 14 gennaio 2020. Sara viene processata con il reto abbreviato, subordinato a perizia psichiatrica. Viene condannata a 7 anni e 10 mesi di reclusione. Secondo la sentenza la donna avrebbe agito nel pieno delle facoltà fisiche e mentali al momento dei fatti, seppur affetta da disturbo della personalità. È curioso sapere come successivamente si sia mostrata tratti commossa, tratti compiaciuta dalla situazione creatasi grazie a tutta la faccenda. Infatti Sara aveva assunto una visibilità e un'importanza prima sconosciute. Nelle motivazioni della sentenza del giudice Tiziana Landoni viene riportata anche la perizia psichiatrica del dottor Nicola Poloni. Secondo la documentazione raccolta la donna attribuiva importanza decisiva nella scelta di Giuseppe di presentarsi alla trasmissione televisiva le iene per raccontare la propria storia, il che, come sottolineato dal perito, pareva essere vissuto dall'imputata come un evento da cui sarebbero potute scaturire conseguenze catastrofiche alla sua immagine e al mantenimento del suo ruolo di genitore. Qui, come se vince, ci si riferisce al fatto che prima di venire attaccato con l'acido Giuseppe aveva partecipato a una puntata delle iene raccontando l'incubo che stava vivendo a causa della sua stalker. In sostanza Sara ha cercato di far interpretare questa mossa come un'attenuante, un evento che ha scaturito la sua rabbia cieca come a voler dire lui ha scelto di parlare male di me rovinando la mia figura di madre e donna agli occhi del mondo. Io allora l'ho rovinato. Era capricciante pensare che il povero Giuseppe è stato sfigurato proprio pochissimi giorni dopo la sua intervista per le iene. Intanto Giuseppe è costretto ad andare in aspettativa non retribuita per circa un anno, durante il quale subisce circa otto operazioni. Poi si diffonde il virus che tutti conosciamo bene e l'intervento che deve affrontare a marzo del 2020 viene rimandato. Riesce a farlo dopo un anno, è un intervento funzionale a salvare una parte del viso e del collo. Giuseppe purtroppo resta però invalido a un occhio, il sinistro che risulta impossibile da salvare. Questi interventi necessari non sono a suo carico ma per quanto riguarda quelli ritenuti di natura estetica e per quanto concerne le cure, queste spese Giuseppe deve sostenerle da sé. Infatti i risarcimenti previsti in questi casi sono davvero limitati. Dinamiche simili furono vissute anche da un altro ragazzo italiano, William, trovatosi nella stessa situazione di Giuseppe. Una volta sfregiato ha usufruito di un aiuto minimo dello Stato per risalire a galla. Nel 2021 Giuseppe Morgante fa il primo appello rivolto a tutte le forze politiche dicendo Chiediamo l'istituzione di un vero fondo di garanzia per le vittime di delitti sulla falsariga di quello esistente per le vittime della strada. Vi prego, mettete tutti la vostra capacità di governo al servizio di questa causa. Non è giusto che sia riconosciuto questo ristoro alla vittima di un reato colposo e non a maggior ragione alla vittima di un delitto doloso. Il suo avvocato aggiunge Giuseppe Morgante è l'uomo sfregiato con l'acido da Sara Del Mastro a Legnano il 7 maggio del 2019. La Del Mastro è stata condannata a 7 anni e 10 mesi in primo grado dal gruppo dal tribunale di Busto Rassizio. Ma la donna non è in grado di risarcire la vittima. L'avvocato Domenico Musico, illegale di Morgante, ribadisce Ci aspettiamo adesso una reazione da parte di tutte le istituzioni. Il tema del risarcimento per le vittime di reati è trasversale. Non ha un colore politico. È una battaglia giusta che riguarda tutti. Per Musico è paradossale che esista un fondo per le vittime di reati colposi ma non per chi, come Morgante, è vittima di un fatto doloso. Il legnanese è uscito sfigurato dall'aggressione e ha già subito numerose operazioni salvavita. Giuseppe quindi scrive questo. Gentili, onorevoli e senatori, sono Giuseppe Morgante l'uomo che ha subito lo sfregio con l'acido da parte di Sara Del Mastro. Costei non è in grado di risarciermi per la grave menomazione permanente che mi ha inflitto. Per ristabilirmi sono così costretto a ripetute operazioni e cure che faccio sempre più fatica a pagare nonostante l'aiuto e l'affetto dei miei cari. Il mio difensore avvocato Domenico Musico da tempo si batte perché alle vittime di delitti ad opera di persone non possidenti si è assicurato un risarcimento. A tal fine egli suggerisce la istituzione di un vero fondo di garanzia per le vittime di delitti sulla falsa riga di quella esistente per le vittime della strada. Vi prego, mettete tutti la vostra capacità di governo al servizio di questa causa. Non è giusto che sia riconosciuto questo ristoro alla vittima di un reato colposo e non a maggior ragione alla vittima di un delitto doloso. Spero che qualcuna voglia prendersi tale impegno e incontrarmi, anche insieme al mio avvocato, per comprendere quali profonde problematiche comporta l'essere completamente lasciati dallo Stato. Cordialmente Giuseppe Morgante. Come prevedibile questo primo appello non basta, quindi Giuseppe ne fa un altro in cui dice l'appello è quello di istituire un fondo per le vittime di aggressione violenta che funzioni davvero sulla falsa riga di quello per le vittime della strada. Gran parte delle cure a cui mi sono sottoposto le ho dovute pagare io e ho fatto sempre più fatica nonostante l'affetto e il supporto dei miei cari, ma penso anche a persone come William. Lui, come me, non avrà un euro di risarcimento perché gli aggressori sono nullatenenti. Quando rimarrà da solo, chi penserà a lui? Il 31 gennaio 2022 attraverso la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFoundMe, la famiglia di Giuseppe rinnova l'invito ad aiutarlo a fronteggiare i costi delle operazioni che ancora dovrà sostenere lungo il percorso, nel tentativo di tornare alla normalità, un percorso durante il quale Giuseppe non ha ottenuto nessun risarcimento dalla donna che lo ha assalito e che risulta nullatenente. La zia di Giuseppe, Elisabetta Amato, dice mio nipote continua a vivere nel terrore. Sarà minacciato di portare a termine quello che ha iniziato. Nessuno lo tutele e si sente abbandonato sia dalle istituzioni che dal mondo del sociale. Persino il sindaco di Legnano non ha mai accolto le sue richieste di aiuto e non c'è nessuna associazione che lo sostiene. Terminate le cure strettamente sanitarie che sta portando avanti, dovrà iniziare il percorso di ricostruzione estetica. Per lui non è arrivato alcun risarcimento, possiamo solo contare sulle donazioni di chi ci vorrà aiutare. Una cosa è certa, a Giuseppe è stata stravolta l'identità, perché quei segni al volto che l'ex fidanzata Sara del Mastro gli ha inferto con l'acido nel 2019, non si cancellano con un colpo di spugna, né sono trascurabili a occhio nudo, anzi tutt'altro. Ci sono, e come se ci sono, e col passare del tempo stanno evolvendo in ferite insanabili, monito doloroso di un recente passato. È il ricordo indelebile di un amore malato, dal sentimento confuso con il possesso che Giuseppe ha pagato e sta pagando ancora a carissimo prezzo. Fortunatamente, a quanto pare, proprio a settembre del 2022, Doppia Difesa, una fondazione Ollus nata nel 2007 dalle fondatrici Michelle Unziker e Giulia Buongiorno, entra in scena. La fondazione avvia un progetto pilota per aiutare gli uomini vittime di sfregi permanenti e o con altre meno mazioni, destinando dei fondi per la precisione 25.000 euro per sostenere Giuseppe e anche un altro ragazzo a cui è toccata la stessa sorte e di cui vi ho già parlato, ossia William. Se volete recuperare il video ve lo lascio nella i qui da qualche parte. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso, di cosa ne pensate? Delle aggressioni con l'acido a me spaventano tantissimo, perché un bicchiere di acido può lanciarlo chiunque. Mi crea davvero molta molta paura questa idea, queste aggressioni con l'acido mi spaventano davvero davvero tanto. Quindi sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi. Ci becchiamo come al solito nei commenti, io vi leggo tutti, lo sapete benissimo, ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti e sapere che cosa ne pensate. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!